Cosa vorresti avere? Cosa ti piacerebbe? Per avere la pace? Sì, se piacere. Una tranquillità emotiva. Ok, avere più tranquillità emotiva. Possiamo cercare di lavorare qualcosa sul discorso. Sei disponibile? Sì. Ok, vieni. 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 Buona esperienza. Wow. Ok, vieni. 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 in compagnia? In compagnia. A piedi seduta sdraiata? Sdraiata. Quanti anni hai? Tre. Cosa vedi attorno? Come ti senti? Come ti senti? Tranquilla. Ok, perfetto. Due posti nello stesso tempo. Hai esplorato molto in realtà. Ok, è stato intenso. Abbastanza sì, molto intenso. Noi in un piano solo possiamo realmente fare una grande esperienza. Come ti senti adesso? Come ti senti? Molto rilassata. Molto rilassata. Come ti senti riguardo alla tua pace interiore? La sento già.